Il treno su portano F1324352 di Trenord, premuto in arrivo da Pasiglia e diretto a Milano, con il treno su portano F13352 di Trenord, premuto in arrivo da Pasiglia e diretto a Milano, con il treno su portano F13352 di Trenord, premuto in arrivo da Pasiglia e diretto a Milano, con il treno su portano F13352 di Trenord, premuto in arrivo da Pasiglia e diretto a Milano, con il treno su portano F13352 di Trenord, premuto in arrivo da Pasiglia e diretto a Milano, con il treno su portano F13352 di Trenord, premuto in arrivo da Pasiglia e diretto a Milano,